Basta essere in due per essere una famiglia. Se c'è l'amore, voglia di fare delle cose insieme, creare, fare e pensare al futuro. E poi la famiglia può essere più grande con amici, per esempio, animali, non lo so, ovviamente non sono bambini, però avere altre cose e non solo essere in due per essere una famiglia, però sentire che intorno a noi ci sia qualcosa altro, anche se non sono figli. Io non ho mai avuto la voglia di avere figli, onestamente, e anche i miei nipoti, vedo che non è che sono innamorato di loro, che mi mancano, che voglio vederli spesso, quindi non ho tutta questa voglia di bambini.